musica vita per me bombe schnauz una porta la porta di bombe schnauz sistemi di sicurezza avanzati per chiudere quella porta cosa devo fare qua dentro però mi dovrei aprire una porta suppongo ma non c'è neanche un pulsante ah ok sono cieco ho un'idea shockhamer fuck you io ho il mio shockhamer tu cos'hai? non lo sai ma sicuramente non è uno shockhamer perchè quello ce l'ho solo io ehi tipi in tutti in arancione matura 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 via giù no ho fatto giù al scivolato per tre chilometri merda mi serve una barriera decente ok mi devo muovere perchè sono corto di vita sono corto di armatura sono corto di tutto oh porca sto per morire sono morto non me l'aspettavo è uscito dal nulla vabbè però c'è la ah ok adesso arriva solo lui va bene no questo sono uno spreco di proiettili e basta devo capire da dove arriva ah ecco da dove arriva porca fa troppi danni però almeno se so da dove arriva la parte a destra ha molte più armature e vita quindi devo andare lì a meno che ho un'idea non so se funzionerà però 16 colpi in uno e tre nell'altro proviamoci vieni giù non ha funzionato avessi una granata potrei centrarlo in pieno perchè da quella da quella posizione ma porca ma porca ma nooo tra l'altro non capisco perchè non mi spara con entrambi spara con una sola proviamo con una sola andare più veloce cioè usare la velocità anziché la forza ok usare la velocità non funziona no però ho visto che ci sono delle munizioni per bombe schnauz dentro quella roba so che probabilmente il bombe schnauz è quello sbagliato infatti shock hunter continuerò a chiamarlo bombe schnauz all'infinito ma ok OUTTA me via a Adesso se scopro che c'erano delle granate Ho delle granate Dove le ho prese Bocco Corri Cos'è quel coso? Che cacchio è quel coso? Cane metallico Vai via cane metallico Non saltare la roba cane metallico Dannazione Porca vacca Cane metallico fa male E dovevo prendere subito la mitragliatrice a canne rodanti Lo sapevo No No aspetta Ho due granate quindi non sto ripartendo da capo Ah ecco dove erano le granate No infatti Cioè vabbè Mi ha shottato subito Ci può entrare qua dentro? No perché se non ci può entrare Armatura Ok non è stata una buona idea Fuck you Vai dentro Ho un'idea Ok quindi se io esco Lui si avvicina Stavo dicendo Stavo dicendo Scomparsa la casetta Se io esco Lui si avvicina Ok Ho munizioni per questo Si ce ne ho Vabbè mi colpisce attraverso la casetta Ho visto che gli ha fatto male Quel colpo Però non abbastanza da stenderlo No dove è finita? Qui c'è una Un'armatura Merda la mia vita Provo a farmela di corsa Vediamo fin dove riesco ad arrivare Ma forca Quella ha preso fuoco Ma dubito che esploda Ma Mori Dannazione Merda Son durato sicuramente di più Però È troppo forte Troppa vita Fa troppi danni Rispetto a me Fuck you Non voglio sapere cosa è successo Ma ne approfitterò Senza pensarci due volte Che cacchio è che mi sbagliò Che cacchio è che mi spa L'ho eliminato Ok 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 va bene Va benissimo Quattro granate Si è preso in faccia Qualcosa Prima di andare giù E svariate Caricatori Ok Ok Dai devo solo riuscire A tirare giusti Cosi Devo dire Devo dire Non sono per niente Simpatici Sti Deads Ai 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 Ce n'è uno qua Da qualche parte Che c'è una mira Assurda Sei tu? Sei tu? L'ho preso a volo? Quattro eh? Sì, quattro Devo ricordarmi il numero perché È molto più comodo Sì, l'unico problema è che quel coso è esploso Ma non mi ha dato neanche un pezzo d'armatura, niente Tira giù la scala Eh, potevi arrivarci anche con le mani Non è che fosse proprio così lontano Ah, venivano tutti da quello sgabuzzino Qui c'è una porta Dove sto andando Ah, ok, sono riuscito a uscire da un Sono lì in vigore Eh, è pericoloso Ma se è giorno Questo tipo si lamenta del nulla Sono i lupi Quanto pare Venga Da il fiore Ok, non c'è nient'altro Alve Come ti chiami? Annet, e tu? Gianfranco L'agente ti chiama così? Sì, tutto Compreso americano Qualcuno mi chiama BJ Mi piace di più Grazie Credo Posso? Ahah Questo è com'è nell'altro Wolfenstein Ok It's time to rock Spacchiamogli il culo C'erano anche i cani Non me lo ricordo Praticamente quando si va a dormire in Wolfenstein New Order Si finisce in un livello di Return to Castle Wolfenstein Potrei sbagliarmi ma mi pare che sia Quello il gioco Ed bisogna fare un livello così La cosa forte è che tu hai tipo Il tuo modello in 3D Con tutto normale E tutto il resto è in 2D Infatti Si vede che è in 2D perché Ti inseguono Cioè in realtà è in 3D ma Quel vecchio 3D Che di 3D aveva solo il nome Molto figo Devo dire la verità È una bella aggiunta al gioco Che è Che è in 3D